la radio cronaca di questa splendida giornata non piove più le nuvole nere stanno ovunque ma chi se ne frega siamo fraci zozzi una delle più belle giornate che il mondo ricordi della bici sempre in compagnia di fabrizio oggi fondiamo due bellissime specialized una che nevo modello dell'anno scorso 27 e mezzo plus invece il grandissimo 29 ultimo una levo 29 ultimo modello ve dico solo questo così così è facile mi piace vincere facile c'è ponci ponci bo 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 sale da sola sale comunque la mia levo la mia che nevo 27 mezzo plus davanti c'è una liric i freni sono dei dei guide code una bellissima molla sottodimensionata della holins infatti penso che sia parecchio morbida va bene lo stesso va bene vediamo come vende scesa sto mostro ci vediamo dopo ecco la mia bellissima che nevo ecco e la mia si però francesco mette dei riprendi vado vai perfetta insomma gli siete sporcati dicevamo nostro stato pudrido liric spettacolare non so manco dovrebbe essere da 160 la mia revelation si bella molla holins vabbè attenzione fate passare allora guarda qua sotto è molto c'è il fango molto altro ci sono tratti con radici vabbè alcuni tratti li fa piedi non è un problema c'è qualcun altro è qualcun altro dai france buttati buttati che è morbido vabbè adesso andiamo ci buttiamo ci leviamo ci leviamo di mezzo caduto no io devo scaldare eh sì occhio alle radici e lo so non ce la faccio non ce la faccio non me va dritta non mi va dritta troppo pesante devo trovare la posizione a questa bici nuova perché sono troppo seduto ti stai scaldando vabbè dai dire insomma in linea di massimo che ho fatto mazza tutto di traverso la terra negli occhi stiamo provando questa turbo levo figa però il terreno non è dei migliori ho presa malissimo la curva ha guispato tu tu le traverso ebbè la terra negli occhi e coglioni io vado in giro senza occhiali bravo ho tutta la terra negli occhi vaffanculo tratto in salita della pecora con questa che nevo elettrica sto salendo col turbo perché non me ne frega niente ad allenarmi va bene così playstation plus per come l'ho battezzata io o meglio 27 e mezzo non sto a parlare con la telecamera con i miei follower 27 e mezzo plus non mi piace per niente ruota troppo grossa come non mi piace infatti come sapete bene il DH F250 questo è 260 comunque è un butcher di non so che marca non è male però scivola è vero il terreno però questo tratto qua non è male però scivola lo stesso scivola anche dietro divertente fino a quando non cadi vabbè che dire elettrica in salita ha il suo perché ma non mi convince in discesa non mi convince affatto viva viva sempre e comunque la 27 e mezzo muscolare normale a presto dai 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 diretto dai riprendo io vai no 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 e se non ci hai ripreso eh figurati da Sì, sì, sì. Tanto che... Eh, con l'elettrica si va, ovviamente. Mi ga no... Vada. 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 Vada bene? Eh? Questa è buona. Sì. Il cinghialotto. Qua lo vedo male. Ok. Invece no. Vada. Vada. Troppo... Eh. Perché? Sì. Quello è il nostro titolare. Ah, sì? Sì. Qua io... Devo prenderla d'acqua. Vedi? Vedi? Forse sì. Qua sì. Qua sì. Qua sì. Qua sì. Qua sì. Qua sì. Perché questo è il percorso di cross country. è il percorso di cross country. Vada. Vada. Sì. Eh. Guarda che ho fatto. Qua è uno schifo. Però vabbè. Eh. Ma qua... bella dai sì. Questa là ci ho visto la gente a piedi eh che non scendeva. Figurati. che vuoi fare? Che vuoi fare? Inghiaiata. Che facciamo? Inghiaiata. Come vuoi tu. Se vuoi salire saliamo se no... Ma da dove la prendi la ghiaia? Ti seguo dai. Dove? Qua a sinistra? Qua a sinistra? Qua a sinistra. Ok. Se riesco a metter piedi sopra. No io non ce la faccio. Io ho le scarpe lisce. Aspetta. Qui c'è l'appoggio, capito? Bene. Non devo andare. Aspetta. Non ce la faccio. E scendo da solo. Non è che... Non è qua che te la prendo io. Ma aspetta che... Cioè provo. Ok. Dove stai prima? Ah! Dai altro pochino. Ecco. Ok. Uh. Ho sentito come... Ah. A posto. Era il dopo. Capito? Non ce la faccio. No. Opposite. Un po! Un po. Eisel. Grazie.